Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Oggi faccio un altro dei miei famosi coming out. Detesto con tutte le mie forze coloro che saltano la coda, che saltano la fila, che cercano comunque di fregarti il posto. Come italiani l'abbiamo fatto tutti, alzo la mano per primo, me ne sono reso conto, cerco di non farlo più, è qualcosa che cerchiamo in qualche modo di tollerare, fa un po' parte della nostra idea, ma in fin dei conti cosa vuoi che sia. Ma con quello spirito che cerca di andare a scoprire quali sono i sensi delle cose, beh, c'è molto molto di più. C'è dentro una profondissima mancanza di rispetto, una totale mancanza di rispetto per gli altri, una presunzione di diritto, di furbizia nella migliore dell'ipotesi, e beh, insomma, mica io sono scemo come gli altri, ho capito come si fa a sgattaiolare, a abbassare la fila. C'è dentro questo senso di sentirsi comunque superiori, se non altro meritevoli di un trattamento diverso. C'è in fin dei conti dentro un senso di disprezzo per gli altri, un senso di, così, fastidio, perché in fin dei conti io non mi posso mescolare con loro, ho diritto a qualcosa di più perché sono migliore. C'è dentro una mancanza di consapevolezza in quello che stiamo facendo, così, un senso di impunità. C'è dentro tutto questo. Poi la domanda che uno deve farsi è forse un'altra. Ma ne sei proprio così sicuro? Sei così sicuro che chi salta la fila, chi ti taglia la strada, ha dentro di sé tutto questo? Non è che te la stai tirando un po' troppo? Non è che prendi qualcosa che ti irrita e cerchi a tutti i costi una spiegazione? Non è che stai sopravvalutando qualcosa che semplicemente dovresti vivere con un po' più di pazienza? Beh, a voi a questo punto la risposta. Buongiorno e buon caffè.